Ed è arrivata la presa di posizione del sindacato generale di base che dice occorre assolutamente più sicurezza nei posti di lavoro e traccia il bilancio degli infortuni. Il 2020 si è chiuso con 11 infortuni mortali nella provincia di Reggio, a cui si aggiunge il tragico incidente avvenuto nella zona industriale di San Giacomo di Guastalla, la prima morte bianca del 2021. Complessivamente dal 1 gennaio 2020 fino al 30 novembre 2020 sono state effettuate 7.730 denunce per infortuni sul posto di lavoro, numeri che confrontati sui dati regionali pongono la nostra provincia al terzo posto per infortuni dopo Bologna e Modena. A fornire i dati il sindacato generale di base che denuncia le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro anche a fronte dell'emergenza sanitaria. L'impennata di denunce per infortuni, infatti, si deve anche al virus nel 2020. Stanno i dati INAIL, quasi 1.200 denunce sono correlate al contagio da Covid-19 sul posto di lavoro, di cui una con esito mortale. Il sindacato generale di base in relazione a questi dati chiede controlli più stringenti sull'applicazione dei protocolli anticontagio, ma più in generale per scongiurare i dati di mortalità dell'anno appena concluso, maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza sui posti di lavoro.